Oltre alla Pasqua e alla Pasquetta, a Modica si aggiunge come la tradizione il famoso Martedì dell'Itria. I modicani da sempre legati a questa appendice di fesse concludono questo periodo di pace con i festeggiamenti nell'omonima collina che sovrasta la città nella zona d'Oriente, guardando dall'alto al centro il cittadino e anche a Modica Alta. Durante questa festa è rispettato e consumato un rito forse unico nel locale panorama delle feste religiose, direttamente collegato alla festa di San Giorgio, e cioè l'acquisto e il consumo del cedro o pirettu. Per tutto il giorno si rivive l'atmosfera delle feste dei paesi di un tempo, caratterizzate da semplicità e divertimento, con la presenza anche di tanti devoti e curiosi nell'omonima chiesetta che fa parte della parrocchia di Sant'Anna, che è custodita anche una Madonna amata dei modicani provenienti dall'Oriente, e il cui culta affonda le radici nel passato, secondo quanto si racconta, due ciechi di Costantinopoli furono guidati dalla Madonna il martedì dopo la Pasqua, fino al santuario di Modica, l'è dedicato, situato sulla sommità della collina dell'Itria ed eretto nel 1600 e miracolosamente riacquisterono la vista. La Vergine allora venne proclamata Odigitria, abbreviato Itria o Idria, che significa guida nella via. Il culmine è inserata quando, dopo la celebrazione eucaristica, avrà inizio la Sagra dei Cavatelli, che, coi cedere e un buon bicchiere di vino, saranno il finale di un periodo dedicato ai piaceri della Gola.